Coach, mancano poco più di due settimane all'esordio, state lavorando da un mese e mezzo, questa lunga marcia di avvicinamento arriva alla sua fase decisiva, conclusiva, come va? Per ora tutto bene, il lavoro sta procedendo come avevamo pianificato con il resto dello staff e abbiamo avuto una bella fortuna che è stata quella di avere già 10 elementi a disposizione su 14 e con l'aiuto dei ragazzi del settore giovanile siamo riusciti sempre a lavorare con costanza e bene e oramai già da due o tre settimane stiamo cercando di spingere un pochino di più con la parte tecnica per prepararci al meglio per quando arriveranno i rientranti della nazionale che saranno la conclusione di questa lunga preparazione. Ecco, in particolare per i tuoi attaccanti ci dovrà essere un lavoro di intesa con Bruno molto rapido, questo ti preoccupa? Non mi preoccupa perché ho la fortuna di avere un paleggiatore molto esperto e che queste situazioni le ha vissute tante volte nella sua carriera e sicuramente sarà una cosa di cui dovremo occuparci consapevoli del fatto che non tutto verrà immediatamente in una settimana perché avremo una settimana di tempo per allenare, dovremo scegliere le cose più utili per quello che riguarda la partenza e poi da lì continuare a costruire settimana dopo settimana di lavoro soprattutto perché avremo fortunatamente diverse settimane piene di lavoro e questo ci aiuterà a poter risolvere i problemi che affronteremo e a migliorare le cose che avremo da migliorare. Senti, sei da una vita in questo ambiente, però questo è il primo anno in cui sei il capo allenatore come stai vivendo personalmente questo avvicinamento al campionato? Lo sto vivendo bene nel senso che sono concentrato su quello che faccio ogni giorno insieme al mio staff e insieme ai ragazzi e voglio dare valore alla quotidianità che stiamo affrontando tutti quanti insieme in previsione appunto di quello che sarà il momento clou che è quello dell'inizio del campionato e delle partite che ci saranno non mi metto nessuna prefigurazione su quello che sarà l'inizio del campionato o quello che dovrò affrontare sono concentrato su quello che stiamo facendo noi e questo è già abbastanza. Grazie.